Nuovo disco per Loredana Bertè dopo 5 anni. In omaggio alla cantante Asia Argento ha realizzato 3 video. Ci ha messo 5 anni Loredana Bertè per realizzare il suo nuovo disco intenso, pieno di energia, molto vero, che si intitola Baby Bertè. Di me mi ha stupito la costanza nel continuare, nonostante tutti, lo sai no? È successo qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Eppure sei andata avanti. Sei andata avanti come un treno, come uno schiacciasassi. Asia Argento ha realizzato 3 video, o meglio 3 cortometraggi dal disco di Baby Bertè. In uno io ballo da sola, addirittura Asia Argento si è trasformata in Loredana Bertè anni 70 e ha mimato il suo canto. Io le voglio un bene stratosferico, la adoro. Per me è la figlia che non ho mai avuto, non per dire che mi chiama Mamma Rock, la mia Mamma Rock.